o vai ecco robertino che ha appena preso il patentino per il motorino il cinquantino sta provando adesso il typhon e che gli è il mpk e che gli è il phantom io c'avevo il phantom allora gli ha montato le gomme da bagnato e ora le vuoi provare vediamo che il robertino appena compiuto 14 anni e gli hanno regalato il motorino e gli ha dietro casa a provare oi oi ma che classe ragazzi che classe di sbiego viene butta di sbiego ecco robertino sta esultando sono il migliore sono il meglio o vai e robertino riparte di sgommata di derapata questo futuro come crossista sta testando la potenza dello scuterino se andrà ai bar a farlo vedere a tutti e vai e robertino riparte ragazzi gas a manetta guarda che posto è in testo noi deve essere in mugello mi pare lui adesso in mugello dai sangue dai sangue gli va a miscela gli scorre l'olio 15 40 nelle vene la propria di dna di è nato in mugello mugellano proprio e vai e si gira borda buca piena gli ha preso la buca ma gli fa una sega a robertino le bue onde va onde gli andava gli andava in fondo a pigliare la rincorsa ora passerà a fuoco ecco attenzione ragazzi sta passando robertino a manetta o vai robertino ragazzi buca piena oi 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 robertino mamma che si è fatto ecco gli amici in soccorso la vicina di casa gli ha sorti a fuori e robertino in terra a giacere secco robertino ragazzi via prima di chiamare i 118 il motorino mi sa che gli è belle ico ora stasera tu senti su ma e su pae ma robertino si è fatto una sega ragazzi anche perché gli aveva la tuta buona gli aveva la tuta buona senza casco e non si va a giro senza casco e ci vuole sempre il casco che il motorino niente si porterà dai carrozziere si farà un barbottino lascia un like sulla nuova pagina di bellini il bellini official page solo su facebook